Oggi la mia giornata sarà comandata proprio da te che mi stai guardando, quindi deciderai cosa dovrò mangiare a colazione, pranzo, a cena, diciamo un po' tutto. Qualche settimana fa ho fatto dei sondaggi sia su Instagram che YouTube, se ancora non mi segui su Instagram andiamo a seguire, trovi il link in descrizione, dove ho fatto delle storie dove dicevo di scegliere cosa dovevo mangiare a colazione. Molti di voi hanno detto mangia pancake a colazione, chi McDonald's a pranzo, chi la pizza la sera. Comunque vi lascerò qui delle immagini sia di YouTube che di Instagram dove vi farò vedere cosa avete scelto. Però questa qui non è diciamo 24 ore classica, ecco quella che fanno tutti gli altri YouTuber che magari vanno al bar e mangiano il pancake oppure vanno al McDonald's proprio, oppure vanno al ristorante. Sapete cosa faremo oggi? Dico faremo perché adesso dovrò andare a prendere un mio amico che farà questa diciamo sfida con me. Noi faremo i panchicchi in casa, McDonald's in casa e pizza in casa. Facciamo tutto in casa, ok? Diciamo per cambiare un po' la challenge, ecco, per non farla sempre uguale agli altri, va bene? Scrivetemi nei commenti altri challenge da fare. Detto questo, a dopo. Eccoci qui, siamo con lui. Sì, mi chiamo lui. Lui si chiama, sarà la persona che farà la sfida con me, lui, vabbè, Matteo. E niente, che ne pensi? Te la senti a cucinare tutto? Come? Come? A me piace cucinare, solo... Ma ti sei appena svegliato? Ci vediamo al supermercato. Eccoci qui, siamo arrivati da piccolo. Ecco qui, spesa fatta. Quanto abbiamo speso, Matteo, secondo te? 8.000 euro. 8.000 euro e 50 centesimi per la precisione. Comunque adesso, per spesa fatta, andiamo a casa e iniziamo a cucinare, iniziamo a fare tutto. Comunque noi siamo a casa e visto che avete ruotato, perché con l'azione dobbiamo mangiare i pancake dolci. Quindi, guardate qui, adesso vi faccio vedere. Quindi, potete vedere, Matteo, cioè adesso stiamo facendo qui l'impasto per fare i pancake. Cosa ci hai messo qui dentro, Matteo? Potete vedere, ci ho messo, ovvero, la farina. Ci ho messo la banana. La banana perché? Spiegaci. La banana per dare il retro gusto di banana, anche perché è dolce, quindi ci vanno meno zuccheri. Oltre a farli dolci, facciamo anche proteici, quindi... Sì, belli proteici, latte proteico, 50 grammi di proteine. Giusto. Mezzo pacco di albume, farina, banana. Adesso lui ha fatto l'impasto, potete vedere, ha mescolato tutto. E' bello ciccioso, eh? Adesso mi cade il burro per terra, ma devo riprendere, devo fare tutto. Adesso, ma che devi fare tutto, sono gli avventini? Dimmi tu, eh, dimmi tu, basta. Metà, metà. Questa? Sì? C'è il burro per farlo sciogliere, ma facciamo il metodo... Non lo so, il metodo cacco, non lo so. Giriamo... Abbassa un po' che sennò si brucia il burro. Passiamo così, giriamo tutto, facciamo l'ossare, vai. Questa porco, oddio. Adesso mettiamolo in passo, allora. Come verrà questa... come verrà questo pancake? Non lo so, eh. E' un botto burroso. Ma sembra un hamburger. Guarda qua. Sembra o non un hamburger? Cioè, questo non è un pancake. Secondo me, qui dentro, Matteo, non me lo dice, ma ci ha messo la carne macina. Secondo me, sì. Ma qui è un piatto, qui è la cioccolata. Ecco qui, il piatto. Mamma mia, adesso... Ok, prima... Ecco qui la prima, l'abbiamo divisa in metà, guardate qui. Come si mette a fuoco. Bello sottile. Non metta... Ah, ha messo a fuoco. Attenzione. Guarda qui, che cottura, va. Guarda, assaggia, adesso. Aspetta, assaggiamo, vediamo se... Vediamo com'è. Fatta caro qua. Buonissimo. È buona, però. Ma è che lo zucchero, giustamente, però dopo con la cioccolata è perfetta. Ma assaggialo anche tu. Assaggio io, non tu. Ma un po' di melinzane, non si? Ah, però è buona. Però è buona, sì, infatti. Comunque, adesso stanno cucendo queste qui. Finiamo l'impasto, perché giustamente non è che possiamo tenerlo così. Ovviamente non le mangiamo tutte, non è che qua facciamo la colazione degli americani. Eh, beh, quello ci vorrebbe, burro da raggede e sciroppo. Eh, vabbè, non esageriamo. Comunque, facciamo tutto l'impasto e poi ci vediamo dopo mentre le assaggiamo con la cioccolata. Ecco qui i pancake. Ci mettiamo pure questa pianta in mezzo. Comunque dai, oh, ci sanno, che dici? Tu quanti ne mangi? Uno? Due? Tre? Te ne mangi uno. Te ne mangi uno? Tu ti mangi uno più grosso, mi vende. Eh, sì. Facciamo la thumbnail, la skiller, Rolando. Così? Eh, spero di adesso. Ma, sì, sei un giocatore che si chiama Rolando. Sì. Comunque, uno sta tipo di così. Spero, un po' più. Questi qua sono gli scacchi. Uno sta di così. Tu che fai messi? Chi sei tu? Eh, e tu stai... E come stai? Vabbè, stai io. Eh, no, colazione. Assaggiamo i pancake, colazione, giustamente. Perfettino. Ma, riprendo, prendo poi esso, dai, prendiamolo. Una piatina con il che fa dentro, qua. Siete che da un pazzo l'erba? Buono, buono. Dunque, questo la mangio perché c'è da voi, aspetta a me. Isp, mac, bacon, manceremo tanto oggi, quindi questa qui non la mangio. Io assaggio il giusto questo. Allora, ce l'hanno da poco. Mi fiss, mac, bacon. Allora, ecco qui, abbiamo preparato tutti i panini. Guardate qui, cheddar, panini, carne macinata per fare l'hamburger. Adesso sto preparando la salsa, come potete vedere. Vieni qua. Che salsa è questa? Spiegaci ma. È una salsa per il fish fish. Adesso vi faccio vedere come si fa. Come si fa? Io non lo so, eh. Allora, si fa, come vedete, una bella torta di maionese. Ok. Qui si mette un po' di ketchup. Ma come il ketchup? Cosa? Un po' di ketchup? A me non piace neanche il ketchup per il maionese. Poi ci mettiamo un po' di paprika dolce, un po' di aglio in polvere. I cetriolini che per adesso abbiamo... Sacla. Acetelli. Guardate qui che panini belli, come sono belli belli. Belli. Ok. Come sono belli belli. Belli belli. Questa carne macinata, guardate quanto è rossa, cioè più, non so, rossa più, non so, del ketchup, ecco. È più rosso del rosso qua. Del rosso, è più rosso del rosso. Perché li metti qua questi cosi? Perché non è un tagliere, adesso va. Ti do questo, aspetta. Questo è il tagliere più grande del mondo, guarda qua. Adesso taglia qui i cetrioli. Si devono tagliare piccoli piccoli perché non devono essere tanto di sapore ma di croccante dentro la salsa. Sì, bisogna tritarli, giusto? Sì. Stri danni non troppo fini però. Ecco qui. Guarda che sarsetto, no? Ha messo i cetrioli, i cetriolini dentro. Eccoli qui, guardate qui che salsa. Questa qui è la salsa che fanno al McDonald's. No, è meglio. È meglio del McDonald's, tunici? Sì. La salsa crispy è pronta. Nel frattempo che, non so, nel frattempo che facciamo un tegono, ok. Quante mette metto? Iniziano a fare tipo, oh sei, ho quattro. No, fai iniziando a metto quattro, poi vediamo. Arricciando. Giriamo, iniziamo a girare questo qui, visto che l'ho messo per primo. Un po' difficile girare e riprendere contemporaneamente, quindi proviamo. Io vi faccio vedere una tecnica segreta. Se voi vedete, tipo la salsa barbecue, ce ne mettete una goccia, quello che viene è più morbido e più saporito. Però giustamente noi siamo poveri, quindi siamo un po' di ketchup. No, come il ketchup. Poi ci mettiamo sale e pepe. Dunque il bacon è pronto, eccolo qui. Tu vuoi mettere il sale? Vai, sale. Dimmi tu, basta. Allora. Basta così, il pepe. Il pepe, va, prendiamo tutto con una mano. E a girarlo, buon di filo. Mettiamo un po' di pepe. Un po' di aglio in polvere, giusto perché è il gusto. Pochissimo proprio. È bo' bello che mescoliamo. Se vi sporcate le mani, non è che dovete sciacquarle. Fatemi una doccia e poi ritornate a fare i hamburger. C'è una cosa. E anche tornate, sono belli piatti. Vai, questa forma qui la fai tu e poi questa io. Vai, va. Facciamo così. No. Così vedo un attimo come la fai. Quanto mi dai? Ti do 2.000 euro. Ci posso stare. Però me ne vedete veramente, no? Come il 2 euro a Cristo. Sì, si può dopo, dopo a fine video te li do, dai. Sì, vabbè. Sì, sì, glielo do. Questo devo farlo io. Vai, riprendi. Eh, grazie. Eh, mi riprendo da solo. No, ma scusate. Mi riprendo da solo. Amico. Usiamo. Vai. Ovviamente senza lavarsi le mani. Sono pulite, sono pulite. Certo. Lavate prima. C'è fatta la sottiletta. Facciamo una pizza. Hamburger bella, grande, perfetta, a posto. Iniziamo a mettere l'hamburger. Qui mi ricordo che c'è il grasso del bacon. Alla casa. Fate così, si sporchiamo tutto. Guarda qui come stanno cucendo. Comunque, ci vediamo tra un secondo appena sono cotti. Hamburger, direi, quasi pronte. Che dici tu, sono quasi pronte? Solo che il McDonald's è cottissimo. Il McDonald's sembra stampato in 3D sempre. Ah, qua. Alla, al sangue. Ah, tu metti direttamente qui. Sì, perché si deve fare croccante. Se hai il coraggio, assaggia uno di questo per il content intero. Ma come? Ah, ma così. Qui dentro, non abbiamo ancora finito, metteremo quest'altro panino, che è lì di Matteo, dovrò fare. E poi mettiamo quest'altro bacon, che almeno lo finiamo. Lecuno. Ecco qui, messo per veramente benissimo, chiaramente, non lo c'è. Posso andare a lavorare o non metti i donati. Facciamo con le mani, dai, con il content, con le mani. Basta che da più. Oh, che cazzo è il maggiore. Ma comunque facciamo il crispy, facciamo 4 hamburger. Adesso, per il mio panino, allora, mettiamoci giusto un po' di salsa crispy, come si chiamano, non lo so, ok. Questa la possiamo pure togliere. No, questa la la metto tutta, Alessandro. No, come che tutta. Mettiamo il bacon. Mettiamo l'hamburger. Senti che... Senti. Senti che... Senti. Mettiamo il cheddar, mettiamo altro bacon, hamburger, altro cheddar, mettiamo altro bacon per concludere il panino, per finirlo. Ed eccolo qua. Chiudiamo, sentiamo un po' i crispy. Sentite, sentite. Che panino. Cioè, guardate qui. Veramente. McDonald's. E guarda qui. Crispy McBacon fatto in casa. Lo spaccolo a metà questo. Questo qua. Dividiamo la metà, vediamo un po'. Qua. Mamma mia. Mamma mia. Guardate qui. L'ho leggerissimo. Questo è proprio un panino fit. Assaggiamo, vediamo com'è. Fa schifo, no vabbè. A parte i scherzi, è veramente buono. Adesso comunque ho assaggiato, assaggero a Matteo e poi basta. Porco, guarda qua. Cottura perfetta, vediamo com'è. Com'è. E' buono? Tutto perfetto. Era buono, ma io fado. Comunque, ho appena accompagnato Matteo a casa. Come dovete vedere sta piovendo. Abbiamo mangiato il panino, come avete visto prima. Molto buono, devo ridire. Buonissimo il panino. Ci sta comunque la crema crispy. Non so come si chiama. Comunque perfetta. I cetroli non si sentivano proprio. Veramente buonissimo. Bacon croccante, poco al punto giusto. Ci sta un sacco. E niente, ci vediamo direttamente stasera con la pizza. Ed eccoci qui. Siamo arrivati alla sera. Come potete vedere qui sono le pizze. Sì, dovevamo farle in casa, però ci vuole troppo tempo. Non riusciamo a farle tutti in giornata. Perché comunque ci voleva la lievitazione e tutte le altre cose. Esattamente non le mangiamo soltanto a Matteo. Perché dopo il panchieco, l'hanno cioccolata, i panini... E poi tutte queste pizze, ovviamente no. Cioè, stavamo a casa di un amico. Quindi avevamo preso tutte queste pizze qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti. Altre challenge da fare con il cibo. Oppure altre 24 ore da fare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto. Lasciate like e attivate la campanella. Detto questo, al prossimo video.